Cerchio Ifioro attraverso Tuglia e Gian, Margeri. Quando si dice colui che sa, non si intende la persona che conosce, ma si intende la persona che ha compreso. È una cosa ben diversa. Certamente uno può aver letto molto e quindi avere una certa saggezza, una certa conoscenza dei fatti, ma dall'aver letto all'aver compreso quello che ha letto ed aver poi immagazzinato nel proprio sentire tutte le cose che ha letto e con cui è venuto a contatto, il passo è molto lungo. Quindi possiamo dire che colui che davvero sa non può essere altro che colui che ha compreso qualche cosa. E la prima cosa che colui che davvero sa deve necessariamente aver compreso, perché se non ha compreso questo non può aver compreso nient'altro di quello che poteva ancora comprendere, è il fatto che ha compreso molto poco, che è molto piccola la sua conoscenza, la sua saggezza e che quindi deve mantenere intatto e tenere sempre presente a se stesso questo senso di umiltà di fronte all'immensità di ciò che deve sapere e conoscere. E quindi inevitabilmente, difficilmente, colui che davvero sa, colui che davvero ha compreso qualche cosa, dirà mai agli altri di sapere, perché saprà, si renderà conto, sentirà che la sua affermazione sarebbe quantomeno un'affermazione del proprio io e basta, e non una cosa veramente sentita.